Sessore Febbo, San Martino in Cantina torna con questa edizione 2012, cosa rappresenta per la promozione dei prodotti abruzzesi? Rappresenta sempre un modo di tenere aggiornati i nostri corregionali, di tenere puntate gli occhi dell'opinione pubblica, dei consumatori sul nostro vino e magari ci si accompagna anche qualche altra cosa, credo che questa attività di promozione che noi facciamo serva principalmente per educare gli abruzzesi a conoscere il vino abruzzese, i prodotti abruzzesi e quindi quando escono magari fuori dai convini regionali a chiedere le nostre eccellenze e su questa attività che ci stiamo praticamente muovendo vedo che sta dando degli ottimi risultati.